Amici di MarciGames, bentornati su GTA V Siamo su un face to face nel quale anticipo già a Xiao Che puoi fare più o meno quello che vuoi, basta che sei tranquillo, ok? Ok Io vi dico solo una cosa, ok? Nico mi dispi... Marco non mangiare, ti prego, se siete... Astidiosissimo Dicevo, dicevo che... Nico mi dispiace, non ci sono le armi perché sono... Perché Marco si arrabba, però in quella dopo ci pensiamo, va bene? Dai, no, facciamo così nel parkour, visto che Anicoli da fastidio li metto le armi Ok, grazie Cosa sta l'orca? Vabbè, ragazzo, grazie Ma grazie, ragazzi Come è il solito, come è il solito, il l'unico che cade sono io Raga, chiedi Ok Sei tu, l'acqua Guarda, veramente ti faccio basso nel video, eh Mi hai fatto cadere, pezzo di cacca L'acqua mi ha tamponato Ma sono loro che ritornano indietro, mannaggia proprio... Ma io non ho capito... Oh... No, questa la taglierei, eh Loco, perdonami, ma ho voluto scherzarmi contro di te, ok? Però perdonami Grazie Raga, posso... Mi fate giocare? Mi fate arrivare, però... Che cazzo adesso come ultimo? A buttarti tu, eh Eh, sto... Vabbè, raga, non è vero Loco è detto karma, comunque, eh Vuol dire che è iniziato ora il video Marci, hai fatto tutto? Ah, ok Sì, mi sono salvato, mi sono salvato Ah, ma se cadi giù e poi ti puoi salvare Certo Fai il primo a responare Ti devi salvare, dai Raga, ma perché mi scatta sto gioco di schifo? Perché giocare? Perché giocare? Mamma mia, un color orrendo Puccia, un color orrendo Comunque, ero primo, ora so terzo Marci, prova te la cerchi, comunque Ok, ce la posso fare, ce la posso fare ad arrivare, raga Loco, sai come si chiama? Calma! Marci, oggi è arrivata la nostra scheda della team Ok, e? No! E? La scheda della team e? Eh, niente, praticamente, tipo io Allora, mi doveva arrivare il 24 Raga, mi arriva il 30 La metto nel telefono Chiamo quelli della team che ancora non si può accedere Buh, bravo Piano, piano, piano Eh, niente Non mi sembia una cosa cattiva Sì, esatto, non era una bella roba RK o? La signora del sud E la palesemente Carmela Quindi sono stato zitto Carmela o Gilda anche potrebbe essere Un salutone a Carmela, per favore Raga, mia zia si chiama Carmela, eh È un bel nome Marco! Non è che c'è Adesso, queste robe Io voglio che... Io voglio... No, taglia, taglia, taglia Si vola! Io sono una macchinina No, non mi beccate, per favore Qualcuno mi ha fatto cadere e non ha avuto rispetto per la mia macchinina, ragazzi Io, lo ammetto io Ma perché siete stupidi nella vostra vita? No, vabbò No, vabbè No, vabbè No, vabbè No, vabbè No, vabbè Oddio, che salvataggio che ho fatto, ragazzi No, raga Non avevo idea Sì, opera Sì, opera Sì, opera Loco, ho appena detto che non siamo sui amici, eh Ma davvero? Solo Marci Cioè, aiutelo o conosciamo amici? In realtà io non sono tuo amico Incredibile, ragazzi No, adesso la macchina di Batman Destra, destra È una dietro di me, eh Destra, destra Dai, no, raga Dai Io c'ho Io c'ho No, no, no Che poi faccio i tempi della Big Vanilla Mi vorrei togliermelo Cos'è che vorresti togliere? Ho un dubbio dei tempi della Big Vanilla Ho detto che c'ho un dubbio dei tempi della Big Vanilla Che mi vorrei togliere Ma Annico No Ah? Ai tempi della Big Vanilla Annico C'ho dubbio dei tempi della Big Vanilla Ah, perché Perché non è giorno di rec, tu dice Quindi Eh, sì, sì, ci si sfoga Che è il pezzo No, Marci, dai Ma guarda che ti puoi salvare Grazie Ma che posso salvarmi? Che ero prima De Marzo De Marquette No, no, no Ma che cacchio Ma ho preso un dosso Ma chi è sta situazione? Hai preso un dosso? No, Nicola Perché non c'hai Oh, Maron Sono quinto Sono quinto Sono quinto Sono sesto Raga, che sia ufficiale No, io, raga No, ma c'è il multiverso Vai Ma stai zitto Stai Scusate raga Non lo ho visto Ma chi è sta macchinina Non lo ho visto Dammi una ragione per non toccarti Ah, ieri Roma, dai Comunque, Buddy, fa una volta lo spagno e perdiamoci po' due Ma non è che Non è che sei andato solo quella volta a vedere il Milan Non è che sei andato solo quella volta a vedere il Milan Ragazzi raga sono a due minuti dal penultimo raga a che cavolo di check point siete per curiosità al 9 io sono al 5 ragazzi ora c'è tutti i veicoli stupidi che i primi non possono far nulla perché non ci riesco ad arrivare ma porca miseria ma sono io l'ultimo sì certo quindi poi io non taglio quando mi va comodo io sto per arrivare vi chiedo gentilmente ma marci non è che io sono salvo marci posso fare una domanda ai nostri telespettatori raga allora fate una cosa marci non c'è così stammi dietro no raga non c'è ma da marcia quello che ho il kart ma come è arrivato davanti a me se ero dietro di me eh mambo che gara veramente ho il blackout raga non ma nemmeno ragazzi posso dire una cosa sono al check point set no no ti prego ti prego ti prego nico per favore va bene va bene va bene allora vediamo che sto andando piano un attimo che c'è marci in mezzo al check c'è raga c'è che c'è c'è su google maps mi dicono che questa zona qua è rossa per favore ma chi è che mi sta spingendo demarchi no non mi sembra che non mi sembra che mamma mia ragazzi sesto marci c'è uno davanti attento ciao io ti auguro veramente di ti arrivi che ti arrivi un nuovo di passo a marcio no c'è il gradino lì marcio lo devi prendere piano sennò dei colli io ti giuro che non ho fatto niente lol oh mamma non è neanche a fare così comunque guarda gli settibaddi grazie ti vedo bello guarda che sia veramente ti ti auguro appunto un nuovo di pasqua a bello marcio così ti vai a passare tutto il giorno a cagare quello che mangi zio pera marci sei risponato perché sono quarto oh madonna marci ci ho salvato andiamo vai marci va bene caro però veramente vai marci è una cosa inutile io credo in te marci ti stai attento vai marci mi sta bene bravo marci no mi sta bene cosa mi sta bene sembrava giusto marci possiamo aiutarti ciao no no nessuno aiuta nico no 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 ma perché la gamba è attaccata al ferro no io il bianco sono io quello bianco marci d'aiuto marci marci ti stavo facendo passare oh scusa pensavo mi volessi beccare scusami scusa siamo salvati dai l'ho qua quante l'ho qua quattro minuti mi sa che quando si passa quelli con i phantom ecco siete a quattro minuti da me baddi la smettiti porca miseria raga col phantom fatevi tanto male per favore e quello che stai cercando di fare no come fa anche per stare la voce di tipo mia mamma quando si rassegnava perché ogni volta che andava ai ricevimenti di scuola i professori di l'idea non mi applicavo io auguro a quello che ha stato il phantom chi è che mi ha beccato col phantom chi è grazie rocco il figlio dai raga ma veramente comunque è esagerato marco pensate io sto registrando e sono sesto cioè pensa te e continua a essere beccato dai phantom pensa te raga ragazzi adesso qua col phantom viola vi prego basta marci digli qualcosa no vabbè raga non ce la faccio io non ce la voglio quittare sto video non ce la faccio più non ce la faccio più con voi raga ma sono ancora sono ancora la camioneta io cioè marco ragazzi marco dove clown no no raga no 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 piano piano marci no no aspetta comunque secondo me marco non utilizza il phantom del marco ragazzi io vi dico solo una cosa marco che è il penultimo è a 4 minuti e 57 da me ero primo non è vero ero primo è a 4 minuti e 57 da me ma se non sei capace a giocare cioè non è che devi portare in detta con noi vabbè 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 c'è quello con il fandom ma se ognuno sta a destra e passa non si chiamerà face to face ma marci ti rendi conto che hai rotto la fisica di questo videogame che non c'è mai stata sono io marci prima mi sono scansato prima vada raga vi prego sotterrate marco proprio con tutta la sua macchina l'ho venduta l'altro ieri non puoi e come si chiama come si chiamava sbraknock no bad stai facendo una cosa pericolosa io te l'ho detto che era pericoloso raga marco parla più hai capito noi poi non ci possiamo lamentare dico noi non ci possiamo lamentare che da primo sono sesto io ma da marci in silenzio che puoi tessuali parole fatevi male col phantom no madama eh vai ma però eh no ma che su sei su si ora forse non vi eh no sono morto mi sa ma dov'è vada a ganci eh mi stai facciando il suo cervello è crashato in questo momento lui sta continuando tipo per try and dare avanti sta zitto perché vuole che vuole che parliamo mi sta superando raga amico primo e sta per vincere ma prima da tutta la gara fammi andare che son sesto io io non mi esprimo raga veramente allora ragazzi allora io vi dico tre gokart morti raga sapete che ha vinto Nico eh si no in realtà no madonna non è detto l'ora ha vinto ha vinto ha vinto raga marci come è caduto non è detto ha vinto su tsm vabbè ma non è vita ero fermo no si può vedere due minuti che non parla dai son sesto va bene ragazzi ok va bene dai bro va bene non preoccupare è stato il mio comeback curva 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 oddio sono parlacce in russo quelle curva no qua decolliamo Marco si ma raga però allora io dico ma levati è un andazzo buttate giù lo colo raga ammazzate Nico e Loco perché se no vincono il gare ma vincono loro dai è chilling zitti date zitti ti prego non parlate perché la tua auto non produce una scia grazie Nico Nico io ti amo ma che schifo stammi lontano mamma mia il comeback di Buddy il comeback di Buddy non mi vedete eh non mi vedete tocca l'occhi sempre tryhardare da l'ultimo primo da l'ultimo primo no mia mamma non c'è da avanti sei l'unico che non ha giocato buttandosi giù no no insomma no vabbè ragazzi dai ma io sono arrivato sesto alla fine almeno ho fatto il comeback ero terzo però sono arrivato quarto alla fine vabbè io ho sbagliato il traguardo non so che mi ha preso la scelta ma gg ho dovuto scusate raga per l'orgoglio mi sono dovuto tryhardare ho dovuto tryhardare un attimo non potevo fare altrimenti ciao a tutti